Salve a tutti. Prima di iniziare il video vorrei fare i soliti inviti. Guardare il video fino alla fine, mettere like, iscrivervi e soprattutto condividere a più persone possibili. Altrimenti, verrete distrutti ad armageddon anche se siete parte dell'Ultra del SIGMO. Vi ho avvertito. In questo video vorrei esporre l'argomento con una metafora. Vi invito ad ascoltare bene fino alla fine. Immagino che voi tutti abbiate un'app per il meteo sul cellulare, o perlomeno, che consultiate uno sito sul meteo o che guardiate un programma televisivo a riguardo. Immaginate quindi che le previsioni per domani dicano che pioverà. Voi quindi uscirete con l'ombrello ma troverete il sole. Vabbè capita di sbagliarsi, o no, le previsioni non sono infallibili. Ma se le previsioni, prese da quel lab o da quel sito sbagliano sistematicamente, tutte le volte, causando dei guai, voi continuerete a fidarvi di quelle previsioni? Io personalmente no. A cosa servirebbero delle eventuali emissioni di errore da parte del meteorologo ogni volta che si sbaglia? Questo trasformerebbe le bugie in verità? Beh, sappiate che questo è esattamente lo stesso ragionamento che fanno i testimoni di Geova quando il corpo direttivo cambia idea, anche riguardo le famose profezie sulla fine del mondo. Esaminiamo questa scrittura. Deuteronomio 18 e 21, 22. Se tu pensi, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione. Di lui non devi aver paura. Ciò significa che chi fa una cosiddetta profezia, in nome di Dio, ma non si realizza, quella non è una profezia. Quindi tutte le volte che i vertici della società torre di guardia hanno sbagliato profezia, dal punto di vista biblico hanno dato la prova che loro non sono portavoce di Dio. Eppure loro, a differenza dei meteorologi, dovrebbero essere infallibili, e hanno la vale la scusa della luce progressiva, oppure che bisogna riconoscere la loro umiltà nell'ammettere di avere sbagliato. Un proclamatore una volta insisteva dicendo che questa umiltà è un'ulteriore prova della loro origine divina. Qualora non fosse chiaro, il mio paragone è questo. Se un meteorologo sbaglia previsioni, vi continuereste a fidare di lui o cambiereste fonte. Se lui ammette di avere sbagliato, le sue previsioni future si avvereranno. Lo stesso vale con le profezie della torre di guardia. Se si è sempre sbagliata, è inutile continuare a fidarsi, lo dice la Bibbia stessa, nella quale i TVG dicono di credere. Per cui, se siete ancora dentro quell'organizzazione, pensateci, fate ricerche sulle profezie del passato, non nascondetevi dietro al fatto che sono intendimenti vecchi, è inutile negare ciò che la storia dimostra essere vero, non andate in giro a dire che non è mai stata prevista alla fine del mondo. Io feci vedere a quel proclamatore di cui vi dicevo prima, la versione online, presa dal loro stesso sito, della pubblicazione 1914. 1914. La generazione che non passerà, dal 1984, dove si dice che i nati nel 1914 non sarebbero mai morti. Ovviamente questo non è vero. Allora questo proclamatore mi disse che c'era un nuovo intendimento, e lo conoscevo già, si tratta della generazione sovrapposta, e quindi ho cercato di fargli capire che se questa profezia non sia realizzata allora il corpo direttivo non è infallibile, le sue parole non sono da Dio. Ci si inventa di tutto per non ammettere di essere stati presi in giro, eppure ci sarebbe solo da guadagnare uscendo dall'organizzazione. Questo è tutto, ho cercato di essere il più breve e chiaro possibile. Alla prossima!